Spero che la pausa finisca presto! Oh! I miei libri! Balcone! Ops! Le gemelle più popolari della scuola! Sono una vostra fan! Ecco un autografo, non ci dispiace! Siete gentili! Sorella, guarda! Gli autografi delle gemelle! Non entusiasmarti, guarda qui! Ti stavano prendendo in giro! Che maleducate! Non sarò più una vostra fan! Ora siamo nemiche! Mi sbarazzerò di tutto ciò che ha a che fare con loro! Senza pietà! Ferma! Possiamo essere popolari anche noi! Potrebbe funzionare! So da dove cominciare! Un vecchio libro di consigli su come diventare popolari! Apparteneva alla nostra bisnonna! Ho un'idea migliore! Cerchiamo su internet! Digitiamo una richiesta! Cerchiamo! Ciao ragazze! Oggi vi spiegheremo come truccarvi nel modo giusto! Iniziamo con la detersione! Il segreto è applicare il gel detergente su un dischetto di cotone! Soffiarci sopra e straffinarlo sul viso! Vale la pena provare? Non esiste! È una fregatura! Ce l'ha fatta! Bene, ci proverò! E' così insalito! Eh, Karim! Che ti succede? Che vuoi dire? Il tuo naso! Il mio naso? C'è un brutto pelo che esce da lì! So come sbarazzarmi! No! Sì! Ci penso io, grazie per l'attenzione! Bene! Ora filmo! Uno, due, tre! Questi brufoli sono ovunque! Ma me ne occupo io! Basta! C'è uno strumento speciale per questi scopi! Fidati di me! Li rimuoverò in un attimo! Wow! Tutti i brufoli sono spariti! Ma ci sono dei segni rossi! E per questo abbiamo una maschera speciale! Uniamo gli ingredienti e agitiamo bene! Ora applichiamo la maschera sul viso usando una spatola! Mettiamo il timer! Quanto manca? Il tempo è scaduto! Togli la maschera! Facile! Wow! L'effetto è immediato! I cerotti anti-acne dovrebbero funzionare bene! Tutti i brufoli spariranno presto! Togliamo tutto! Wow! Ha funzionato! Possiamo spegnere la clip! Ops! Questo è uno shock! Cos'è successo? Ho postato il video su TikTok per sbaglio! Davvero? È ridicolo! Claire guarda le sfigate che filmano un TikTok! Un'emoji dalle gemelle! Hanno apprezzato la clip! O ci prendono in giro! Come si permettono! Claire è nelle tue mani! È un vero disastro! Applichiamo la crema e le immergiamo in un bagno di paraffina! Ora rimuoviamo la cera secca! Wow! La pelle delle tue mani è perfetta! Che risultati sorprendenti! Caroline, le tue labbra! Sono un po' scripolate, ma non è un problema! Servono miele e zucchero! Ha capito! Prendiamo il tè! Bene! No! È per le labbra! Miscolerò il miele con lo zucchero! Per fare un ottimo scrub per le labbra! Si applica sulle labbra e il gioco è fatto! Mi piace molto! È il momento di farsi un selfie! Guarda nella fotocamera e sorridi! Oh no! È un panda o cosa? Perché le tue occhiaie sono così brutte? Questo succo di cetriolo congelato è il freezer da una vita! Finalmente è tornato utile! Ti aiuterà con le tue occhiaie in un attimo! Il ghiaccio attonificante è rinfrescante! Le occhiaie non si vedono più! Un messaggio! Oggi abbiamo un esame! Non facciamo tardi! Ciao! Caroline, hai un aspetto fantastico! Che trucco meraviglioso! Guarda un po'! Grazie! Karen, entra pure! Ce l'abbiamo fatta! Che meraviglia! Ciao a tutti! Ah, della lattuga tra i denti! Eww! Non si ridacchia! È stato tutto inutile! Allora, qual è il nostro piano adesso? Oh no! Le gemelle ci hanno preso in giro di nuovo! Non saremmo mai popolari! Dai, devi solo lavarti i denti! Non è abbastanza! Aspetta! Lo spazzolino farà sicuramente il suo lavoro! No, no, no! Stanno andando alla grande! Gli darò un like! No, sei matta? Sono sfigate! Non osare farlo! E così sia! Se proprio vuoi! Useremo le strisce sbiancanti! I denti sono bianchissimi! Le adoro! Devi togliere le strisce! Toglierle? Oh, capisco! I miei occhi! I tuoi denti sono accecanti! Ah, scusa! Oh, che cagno! I tuoi capelli! È ora di lavarli! E tu hai la porfora! Lo so, è un disastro! Non preoccuparti! Ci pensiamo subito! Ho una maschera per capelli e uno scrub! Applichiamo la maschera e massaggiamo bene la testa! Poi applichiamo lo scrub sul cuoio capellito! Senza lasciare spazio alla porfora! Stroffina più forte! I capelli sono perfetti! Accendiamo il live stream e facciamo il pieno di luce! Vediamo cosa contiene la nostra beauty box! Quanta roba! Non vedo l'ora di provare tutto! Iniziamo con la base! Usiamo una spugnetta! Applichiamo il fondotinta! Oh, che ottimo filmato! Lo adoro! Non è poi così importante! Il fondotinta è pronto! Il prossimo è il correttore! Illuminiamo gli zigomi! La fronte! Ingrandiamo le labbra! E illuminiamo il naso! E ritocco! Fatto! Il passo successivo è il contorno! Definiamo zigomi e fronte! Poi il fard! Gli zigomi e la punta del naso sono a posto! Ottimo! Applichiamo dei brillantini sulle palpebre! E gli ombretti luminosi! Facciamo le ciglia! E disegniamo le labbra! Non resta che aggiungere il lucido labbra! Voilà! Favoloso! No, non lo è! Lo voglio anch'io! Rismettila subito! Questo aggeggio ci aiuterà a fare dei ricci perfetti! Wow! Wow! Proviamolo! Una ciocca di capelli lisci si trasforma in una stupenda onda! Stupefacente! Ora tocca a te! È fascinante! Oh! Qualcosa è andato storto! La gengio si è rotta! I miei capelli sono orribili! Ho un'idea migliore! Ci serve la cintura dell'accappatoio! La bagneremo per fare i riccioli! Ha capito! Diamoci da fare! Avvolgiamo le ciocche e diamogli un po' di tempo! Wow! Ha funzionato! Ma i nostri abiti però! Dovremmo cambiarci! Lo so! Ordineremo qualcosa online! Ottima idea! Ordinato! Oh! La voglio anch'io! Oh! Come faccio a cancellare? Non importa! Ci faremo consegnare tutto! E la consegna? È stata veloce! L'ordine è arrivato! Che scatole grandi! Ciao! Sì! Consegniamo noi! Le gemelle più popolari lavorano nelle consegne! Devono saperlo tutti! Caroline! Basta! Fermiamo questa faida! Bene! Pace! Pace! Vi aiuteremo a trovare l'abito perfetto! Cominciamo con questo! Non ne sono sicura! È questo? Non ci siamo! Che ne dite di questi? Wow! Ottima scelta! Vi stanno davvero bene! Proprio così! Avete sicuramente raggiunto il vostro obiettivo diventando le ragazze più sexy del college! La lezione è iniziata tempo fa! Dobbiamo andare! Potete partecipare tutte al concorso! Sì! Saremo le reginette del college! La vincitrice vincerà un viaggio! Karen! Dobbiamo partecipare! Che cosa stupida! Un viaggio gratis! Ci stiamo! Ho un'idea! Certo! Ci sto! Ma silenzio! Dobbiamo scegliere dei bei vestiti! Datti il 5! La lezione è finita! Potete andare! Attenzione! Dobbiamo andare! Ai! Sono state loro! Non vinceranno di certo! Inviate! Il messaggio? Vinceremo! Vinceremo noi! Nei vostri sogni perdenti! Non osare minacciarci! Devo ritoccare il trucco! Oh! C'è qualcuno! Un rossetto al peperoncino! Shhh! Claire sta per avere una sorpresa! Finalmente! È il mio rossetto! Ha un odore strano! È il peperoncino! Brucia! Cos'è successo? Le ragazze cattive hanno messo del peperoncino nel mio rossetto! Eh! Ti stanno bene! Davvero? Non importa! Mi ritocco anch'io il trucco! È strano! È tutto attaccato al tavolo! Noi non c'entriamo nulla! Cosa? Hanno incollato il mio trucco al tavolo? Ok! Non mi fermeranno! Fard! Rossetto! Mascara! Fatto! Sai che roba! Sei pronta? Giriamo un TikTok proprio come abbiamo provato! Uno, due, tre, quattro e un cuore! Un gioco da ragazzi! Possiamo farlo anche noi! Vediamo cosa c'è di nuovo! Wow! Il nostro TikTok è di tendenza! E queste? Le nostre antipatiche coinquilini! Zero like! Sfigate! Tu metti i poster da quel lato io dall'altro Ok! Scambio! Fatto! E l'ultimo qui! Ottimo lavoro! Andiamo a prepararci! Cosa? I loro poster sono ovunque! Ho un'idea! Ritagliamo e incolliamo con cura! È ancora meglio di quello originale! Siete forti! Vi do il mio voto! Davvero gentile! Il piano ha funzionato! Wow! Eccola! La corona! Wow! È mozzafiato! Ehi! Giù le mani! Quella corona appartiene a noi! È così soffice! Oh no! È la nostra corona! E niente più! Scusate se interrompo! Ma la vincitrice riceverà la corona dopo la gara! Per ora resterà qui! Non è giusto! Cosa diavolo ci fanno qui? Siamo qui per i vestiti! Anche noi! Quello è mio! Ragazze! Ragazze! Non litigate! Chi entrerà nel vestito lo prenderà! Ok! In camerino! Che maleducazione! Credo che non sia della mia taglia! Non mi piace! È da sfigate! Non credo che vi stia bene! Vedremo come starà a voi! È un disastro! Il vestito è troppo piccolo! No! È un no secolo! Cos'è che non capite? Cosa possiamo fare? Lo so! Ragazze! Questo è per voi! Vi staranno sicuramente benissimo! Speriamo! E a voi! Grazie! Abbiamo ricevuto così tanti voti! Eccellente! Ora, vestiamoci! Con questi splendidi abiti Siamo destinati a vincere! Non vedo l'ora! Ma guarda un po'! Quanti voti! Aspetta! Mi è venuta un'idea! E cioè? Svuotiamo questo barattolo! Ups! Un'immagine da ricordare! Ora siamo pronte! Ehi! Non emozionatevi troppo! Ecco! Date un'occhiata! Il vostro barattolo dei voti è vuoto! Non è possibile! Corri! Ha funzionato! Sì! È vuoto! Dobbiamo sistemare i voti in men che non si dica! Tira fuori i vestiti! Oh cavolo! Ho dimenticato i vestiti! Usiamo l'immaginazione! Perfetto! Indossiamo i vestiti delle rivali! Calzano a pennello! Attima idea! La gara sta iniziando! Li abbiamo presi quasi tutti! Muoviti! Fatto! Possiamo cambiarci! Siamo in ritardo! Ma dove sono i vestiti? Che cos'è? Oh non c'è altra soluzione! Dobbiamo cambiarci! Non sbirciate! Il vestito non va bene! Ma non abbiamo altro! Non andrete da nessuna parte! Oh no! La porta è chiusa a chiave! Cosa facciamo? Su con la vita! C'è sempre una via d'uscita! Devi solo pensarci un po' su! Pensa! 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 Una grata! Chi entra per prima? Spara! 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 Tu! Ti aiuto io Claire! Dammi una spinta! Let's go! Ok! Eccoci qua! Un concorso tra gemelle? Ma cos'è questo rumore? È fuori luogo! Fermatevi subito! Che confusione! Siete tutte nei guai! Nessuna avrà la corona quest'anno! No! Non quello! Preside! È tutta colpa nostra! Claire e Mary non c'entrano niente! Davvero? Ok! Ecco la corona! Oh! Grazie! Beh! Fare qualcosa fa sentire bene! Sono d'accordo con te, sorellina! Evviva! La corona è mia! No! È mia! Ridambela! Vi siete bloccate e cosa? Andate a educazione fisica! Non è giusto! Questa volta vinceremo noi il concorso! Ma cosa stiamo facendo? Ehi! Stiamo costruendo qui! Vi abbiamo già battute! Davvero? Sorella? Notte! Basta sonnecchiare! Dobbiamo sbrigarci! Ok! Posso montare la struttura da sola! La mia borsa non mi ha mai delusa! Proprio quello che ci vuole! Notte! Spostati! Wow! Ha funzionato! Allora chi è più veloce adesso? Non riusciremo mai a vincere! Ce la faremo! Lo adoro! Festa! Saremo le campionesse! La notte è ancora giovane! Dobbiamo arredare la stanza a modo nostro! Noioso! Divertente! Cosa ne pensi? Notte! Si è attormentata di nuovo! Nel carrello! Che cos'è? Consegna! Ah! Tempismo perfetto! Ehi! La testa! What? Notte! Sei già qui! La mia stanza è finita! Luci! Wow! Voglio la stessa cosa! Ecco un'idea! Stelle! Venite qui! Prese! Decorerete la mia parete! Il prossimo passo è il tool! Oh sì! È proprio come volevo! Che ne pensi, sorellina? Che miseria da guardare! Basta litigare! Usiamo la mia borsa magica! Ops! È vuota! In questo caso... Faremo qualcos'altro! Wow! Magia! La nostra magia è più forte quando siamo tutte e tre unite! Magia! Costruiremo la struttura da sole! Come vuoi! Sì! Sembra un buon piano! Ecco! Un po' più veloce! Oh sì! Bene! Continua così! Ma... È un segreto! Wow! Ha funzionato! Ce ne siamo occupate noi! Come faccio a salire? È altissimo! E anche qui non è male! Ups! Quante stelle! E sono tutte per me! Stai bene? Assolutamente sì! Continuano ad accaderti cose! Ragazzi, chiudete gli occhi! Ora è accogliente! Ma sembra che mattino e pomeriggio stiano avendo problemi! Abbiamo un progetto per l'altalena! Calma! Smettitela di litigare! Non va bene! Scegliete qualcosa di più moderno! Questa di sicuro! Bella scelta! Prenderò questa pagina! Fatevi da parte! Magia della notte! Non deludermi! È andata bene! Wow! Da paura! Adorabile! Grazie! Sveglia! Oh? Devo andare! Statemi bene! Sbrigati! Coppiamo notte! Magia! Non deludermi! Ups! Non funziona! Ma ce la faremo! Il viola è quasi finito! Cubo di Rubik? Posso? Ma certo! Ups! Il tuo cubo è un po' diverso! Oh sì! Ora il mio pavimento è una pista da ballo! Ma che musica è? Ma come... Wow! C'è una festa vera e propria! Fanno anche uno speaker? Mi farebbe comodo! E un altro! Prendo anche le poltrone! Tutte e tre! Ehi! Ma cos'è stato? Ups! Eh... Vi pagherò! Grazie! Evviva! La festa continua! Micropono! Oh sì! Sono una star! Bernie! Questa è la mia stanza! Non potete stare qui! Scusa! La pista da ballo può ospitare solo una star! Con la sua palla da discoteca! Ne vado matta! Potrei anche scrivere una nuova canzone! Che succede? Non riesco a dormire! Che solito mi addormento subito! Sorella, che succede? Perché sei ancora sveglia? Non riesco a dormire! Beh, ti aiuto io! Sogni d'oro! Ma che fai? Piano B! È una giostrina per i sogni d'oro! Grazie, sorellina! È il minimo che possa fare! È fantastica! Oh, da ciò che vedo, le nostre vicine sono in difficoltà! Seguiremo le istruzioni! Vedo ad aiutarle! Posso dare un'occhiata alle istruzioni? È chiarissimo! Hey! Mia sorella mi sta chiamando! Ok! Devo aiutarla! Sei qui! Bene! Mattino, il tuo compito è quello di decorare il piano di sopra! Aham! Omeriggio, tu sei responsabile del letto! Va bene! Note, tu sei responsabile del piano di sotto! Eh, cosa? Come vuoi? È chiaro? In tal caso, al lavoro! Possiamo spostare le montagne quando siamo insieme! Portatele dentro! Ci siamo quasi! Ferme! Allora, dove la mettiamo? Solo un minuto! Devo calcolarlo! Sai, puoi tenertela da sola! Orpelli? C'è anche un manuale! Vediamo! Primo passo, aprire il manuale! Ma che fa? Quale sarebbe il mio lavoro? Ecco una tenda! So cosa fare! Le luci sono pronte! Così come le nostre foto divertenti! Oh, è estenuante! Ho bisogno di ricaricare la mia batteria interiore! Sarebbe più facile se lo finissimo da sole! I ripiani sono pronti! Anche qui! C'è spazio per tutto! Non è nemmeno a metà! Posso avere l'ortello? Ci farò delle tende! Eila! Non serve a niente! Sorella, aiutami! Fatto! Aggiungiamo le candele! E nuvole soffici! Chiudi gli occhi! Aprili! Non è incredibile! Wow! È mozzafiato! Fantastico! Uno, due... Bene! Chi saranno le vincitrici del concorso? È vero! La competizione! Diamo il benvenuto sul palco alle concorrenti! Vinceremo noi! Mi piacerebbe! La stanza segreta di sera e notte! Beh, è impressionante! La stanza di mattino e pomeriggio! La nuova squadra è riuscita a stupire la giuria! E il premio va a... Mattino e pomeriggio! Sì! Ce l'abbiamo fatta! No! Com'è possibile? Ci meritiamo la vittoria! Ma ad essere sincere, non solo noi! Questo premio è anche vostro! State scherzando? Non ce l'avremmo fatta senza di voi! Sì!